Ecco, si entra, qui è privato, scende giù, qui ovviamente è tutto vuoto perché essendo privato, alla sera è tutto vuoto qui. Qui è la carrozzeria del nostro amico, si scende, qui è tutto sempre privato, si gira l'angolo sinistra e qui dove l'insegna è chiusa era un bar ma è il nostro, ci troviamo tutti qui, qui si può fare tutto il casino che si vuole, ok?